Una mezza rivoluzione per quello che riguarda la gestione dei rifiuti del comune di Giulianova che da oggi cambia. Dopo il bando per il gestore unico fatto dall'Aggiunta Mastro Mauro, la gara se l'è aggiudicata la Ecotedi, società formata dalla Team e dalla Diodoro che da questa mattina sta operando sul territorio comunale. Mantenuti i posti di lavoro di coloro che prima erano dipendenti di Soggesa e raccolta differenziata che negli obiettivi dell'Aggiunta dovrebbe passare dal 65 al 70%. La città di Giulianova è la prima città nella quale il gestore unico individuato con la gara europea entra in servizio. Da oggi Giulianova non ha solo il gestore unico individuato con la gara europea ma incomincerà ad avvertire e a percepire anche la cittadinanza perché la cosa che a me più interessa è la svolta sotto il punto di vista economico e della pulizia della città. Da oggi questi benefici economici ma soprattutto quello dell'efficienza e l'efficacia del servizio. Io ho notato, sono il primo a farmene carico, che la città sotto il punto di vista dello spazzamento aveva delle grosse criticità. Da oggi noi avremo una città nella quale non solo si farà la differenziata, non solo si differenzierà sempre di più, ma che avrà le strade più pulite. I 40 esseri umani che lavorano a Giulianova e non hanno mai smesso di lavorare, mai, mai, anche in precedenza, continuano a lavorare con il nuovo gestore. Qual è la novità più importante qui a Giulianova dal punto di vista della raccolta? Che abbiamo sicuramente avviato un servizio che nel corso dei prossimi anni dovrà portare la Ecotedi a raggiungere le ambiziosi mete indicate dal Comune di Giulianova, arrivare al 70% di differenziata. Abbiamo già concordato con l'amministrazione che nel corso delle prossime settimane piano piano introdurremo le modifiche al tipo di raccolta e un nuovo calendario. Abbiamo fatto una riunione con la Polizia Municipale per indicare in quali strade verranno apposti dei cartelli per segnalare i giorni e gli orari in cui passerà la spazzatrice, per evitare che ci siano macchine. Quindi prima informazione, poi spero che non ci sia necessità di sanzionare i cittadini per far sì che la spazzatrice, un mezzo meccanico abbastanza grande, possa passare tranquillamente nei giorni indicati e effettuare quel servizio di pulizia necessario.